Buffon e Cassano alla Juventus, ci abbiamo provato, gli avrebbe fatto bene. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Ospite di BoboTV, il portiere del Parma dice, sarebbe durato alla Juve, stare con noi sarebbe migliorato. Gigi Buffon è considerato da molti i portiere più forti nella storia del calcio. Una questione soggettiva tra gli Aschin, gli Zoff, i Neuer. Ma sicuramente il difensore del Parma ha scritto pagine fondamentali con la maglia gialloblu, la Juventus e la nazionale italiana. Con la breve esperienza PSG nel mezzo. Buffon è stato ospite di BoboTV, il canale Twitch in cui Bobo Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano ricevono grandi personalità del calcio del passato, ma non solo. Nella chat, il 45enne difensore del Parma ha rivelato un aneddoto su Cassano stesso. Quest'ultimo ha spesso rifiutato le proposte della Juventus nei suoi anni più importanti come calciatore. Buffon cercò anche di convincerlo senza successo. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.